Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì dopo le sante ceneri. La liturgia ci presenta oggi un brano tratto dal Deuteronomio, siamo al capitolo trentesimo dal versetto 15 al versetto 20. Ed è vero che c'è dinanzi a noi sempre la scelta, quella scelta che condiziona anche il nostro futuro. Basti pensare alle scelte anche scolastiche, le scelte professionali, sono quelle che poi dopo danno un indirizzo al nostro percorrere di vita, il nostro percorso di vita. E allora Mosè parla al popolo e dice guardate che dinanzi a voi c'è la via del bene e la via della vita, così come la via della morte e del male. Voi che cosa volete scegliere? Di ascoltare i comandi del Signore o di ribellarvi alla sua voce? E allora perché la saggezza prevede che di qualcuno ci si debba fidare? Fidarsi di noi stessi ne vale la pena? Sì e no, nel senso che dobbiamo sempre crescere, divenire, crescere secondo la scuola di Gesù. Allora quando il nostro cuore è sempre più simile al suo, quando ci siamo allineati nella sua santa volontà, ecco, possiamo sempre riaccogliere quello che è il dono nella nostra vita e entrare, come dice il Salmo, non nel consiglio dei malvagi, ma nella legge del Signore. Dove trovarci così tanta gioia, meditando la sua legge giorno e notte, saremo come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto al suo tempo. E allora sì, che confidando nella voce del Signore, portiamo frutto con abbondanza. E allora se il cammino della quaresima, proprio subito dopo l'imposizione delle ceneri, l'etorgia ci chiede, tu da quale parte vuoi stare? Vuoi scegliere la via della vita o della morte? Seguire il Signore e rifiutarlo? Bene, nel bravo del Vangelo, troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 9, del versetto 22 al versetto 25, Gesù che racconta, annuncia il suo primo, l'Evangelista Luca, annuncia la prima passione, quindi che il Signore stesso Gesù racconta di quello che gli accadrà. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti, dagli scrivi, venire e cise risorgere il terzo giorno. Quindi vivere la quaresima con un aspetto pasquale, senza una fostigazione della nostra vita, ma con l'orizzonte della risurrezione di Cristo, ci aiuta a raccogliere l'invito sempre che Gesù ci fa. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, rinneghi proprio io. Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quella croce che senza il Signore diventerà opprimente, che diventerà asfissiante, che ci toglierà vita e serenità. E allora non vogliamo perdere la nostra vita, ma la vogliamo guadagnare, perché così ci ha detto Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. E allora vi auguro e mi auguro di vivere questa santa giornata proprio nel raccogliere l'invito di una vera quaresima, nello scegliere la voce del Signore. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.